Terza vittoria consecutiva per il Benevento Targato Carboni, che non senza difficoltà riesce a sbarazzarsi di un'ostica carrarese, ben messa in campo dall'ex Nello di Costanzo. Bravi giallorossi a sfruttare con Mancosu il calcio di rigore assegnato al 31esimo del primo tempo e a serrare poi le fila nella seconda frazione di gioco, quando i toscani hanno esercitato la maggiore pressione. Carboni riaffida la corsia destra a Capitan Danna e fa esordire dal primo minuto Espinal, con Montiel dirottato al centro. Panchina per Raicic. In avanti confermatissimo il duo Marchi Marotta. Sul fronte toscano mister Di Costanzo, visto le pesanti assenze per squalifiche ed infortuni, affida il centrocampo al giovane Ciciretti, supportato da Venitucci. A Machiwa e Belcastro l'onere di impensierire la difesa di casa. In curva sud per festeggiare i 37 anni di Carmelo Imbriani, un solo grande striscione con toccante coreografia prima del fischio iniziale. Al settimo parte bene la Carrarese e il cross dalla sinistra di Vannucci mette in apprezzione la difesa giallorossa. Dopo tre minuti arriva la risposta del Benevento con Marchi, ma anche in questo caso la difesa riesce a liberare. Al ventiquattresimo Anaclerio sfonda sulla sinistra, ma la conclusione di Marchi viene ribattuta in angolo. Capovolgimento di fronte e sugli sviluppi di un angolo, Lanzoni cicca da posizione favorevole. Intorno alla mezz'ora l'episodio che poi deciderà l'incontro. Montiel dalla sinistra batte una punizione tagliata che incontra sulla sua traiettoria il braccio di Venitucci. Per il fiscale Mainardi è calcio di rigore. Dal dischetto Mancosu non sbaglia e porta i suoi amanti. La reazione toscana è sterile e solo al 45esimo Orlandi in due occasioni si rende pericoloso in aria giallorossa. La ripresa si apre con il Benevento che dà l'impressione di voler chiudere il conto. Ci prova prima Mancosu a volo su assist di Marotta e poi Marchi di testa, ma le conclusioni sono imprecise. La carrerese non ci sta e inizia a macinare il gioco, soprattutto sulla corsia destra. Al quindicesimo Mancusu non trova il tempo giusto e dopo due minuti è bravo Dana di testa a sbrogliare una situazione abbastanza pericolosa. Al diciannovesimo è ancora la squadra toscana a sfiorare la rete con una bella conclusione di Venitucci che Gori respinge, non senza difficoltà. Il Benevento fa fatica nelle ripartenze e nemmeno gli ingressi di Raicic e Buonaiuto favoriscono le giocate giallorosse. Le ultime vere emozioni della gara le regala il centravanti toscano Machiwa che prima al ventiquattresimo conclude di testa in modo impreciso e poi a dieci dal termine trova un Gori pronto sulla sua conclusione. Null'altro accade nei restanti minuti e dopo il recupero concesso dal direttore di gara i giallorossi possono finalmente festeggiare il Tris sotto la ritrovata curva sud.